Giudizio con tutto il mio paterno affetto, Alberto, questo me lo scrisse dopo che vide Biancolossi e Verdone e lui si innamorò del personaggio di Furio che trovava straordinario e lui ogni volta che mi incontrava dovevamo parlare tre ore come Furio, una rottura di cui io una cosa tremenda perché era... tu mi adori? e lui faceva, io dico sì mi adoro Magda, vogliamo andare da Silvacoscina? ci andiamo subito, guidi te o guido io? Guido io Alberto, ci mancherebbe altro andiamo a 38-39 km per l'ora, anche 60-60, cioè andiamo alle ore, a certo punto io dico ne potevo più però sì, gli piaceva talmente tanto che ogni tanto si faceva qualche, era innamorato del Garibaldino ah del Garibaldino piaceva molto? il vecchio Garibaldino sì, sono due persone che amavano tremendamente lo scherzo del Garibaldino con Renzo Arboli un vecchio Garibaldino che capovolge tutta la storia risorgimentale grazie mille